E qui siamo vicino a una grande cittadina di Bormanno, no? Siamo sotto uno dei viadotti che stanno sotto Bormanno. Il posto ci sarà qua un po' davanti a uno svincolo di Bormanno che praticamente è anche un altro dei svincoli che a lui piacciono di più. Lo svincono da dove poi si entra dei paesaggi meravigliosi Questa è la galleria che è proprio sotto Bormanno. Praticamente la cittadina di Bormanno è affoggersi in questa galleria. Dicevo, da poco saremmo nello svincolo di Bormanno. È un svincolo meraviglioso, se voi uscite e vi addentrate, praticamente appena uscite lo svincolo di Bormanno ci sono poi i vari svincoli che ti portano all'interno, adesso l'Aino d'Orgo, adesso appunto Bormanno e altri paesini che sono dei posti bellissimi, da dove poi riforterete sicuramente dei ricordi bellissimi che terrete per sempre dentro di voi sicuramente. Eccolo quello fricolo che ho fatto. Qui si entra in questo posto meraviglioso, non l'ho dimenticato. Ricordiamo sempre che i video sono realizzati da Teleradio Signale Stereo. Ecco, con la voce di Roberto Francesco e la regia è pronta sempre da Salvatore Pedalizzi. Il tutto è ricordato della hexagonia della terrazza. Grazie.